Il loro cuore rimane sempre nel teatro, il loro habitat naturale è lì che loro hanno avuto il primo grande successo, mi capisce? Capisco, teatro, siamo qui Ecco, teatro, allora il loro spettacolo, i corti, i corti si chiama, il loro spettacolo è stato visto da mezzo milione di persone Non c'è bisogno che però fa tutto questo, cioè è normale, non dire una cosa così E lo sa chi era il regista di questo spettacolo? No, non lo so Certo, glielo sto dicendo io, sono forma retorica Mi capisce, ma ha capito quello che sto dicendo? Merda se ho capito Il regista di questo spettacolo questa sera è qui perché è un amico anche di Aldo Giovanni Giaco Un tesoro Ecco, pensate che all'estero è considerato l'attore trasformista più grande del mondo A 17 anni era già una star dell'Olimpia e questa sera ci presenta un inedito dal suo nuovo spettacolo Arturo Brachetti Hola Grazie Grazie a tutti. 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 Il piede del campione medagliatore. Il piede del campione medagliatore ho ridotto così. Io direi di sentire il nostro inviato nella hall così si cambia e poi viene la terra. Io ho pagato il cammello via. Sì, grazie. Il cammello lo porta via? Sì. Vogliamo vedere...